Arci Solidarietà ha lanciato una serie di iniziative in occasione della giornata mondiale del dono, celebrata da oltre 150 paesi nel mondo. Oggi, infatti, tra dicembre, l'Associazione Rodigina ha messo in atto un'apertura straordinaria dell'asilo notturno Arcobaleno, situato in Vicolo Crocco, un'occasione per conoscere da vicino questo luogo atto ad accogliere i senza dimora con l'aiuto dei volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo per aiutare le persone in difficoltà. Oltre ai posti letto, le persone hanno a disposizione un bagno per farsi la doccia, possono usufruire di una postazione internet e della rete wifi, una sala soggiorno, una tv e possono conoscere dove andare a mangiare o chiedere indumenti o cercare lavoro. Ad aprire l'evento sono arrivate le parole della presidente di Arci Solidarietà, Donata Tamburin, che ha sottolineato Questo è un luogo dove ci sono a disposizione otto posti letto, sei per uomini e due per donne, rivolti ai senza dimora. È aperto fin dal 2003 e dopo diversi cambi ci siamo spostati definitivamente qui in un progetto che vogliamo e ci teniamo rimanga gestito da volontari. Siamo un po' in difficoltà per quanto riguarda gli operatori e per questo siamo alla ricerca di volontari che possano dare una mano in questo asilo notturno. Per ogni informazione a riguardo è possibile andare sul nostro sito www.arcisolidarietarovigo.it Oggi, in occasione della giornata mondiale del dono, abbiamo lanciato due iniziative. La prima è intitolata Un po' di tempo, non ti chiediamo soldi, chiediamo un po' del tuo tempo. Nel sito GivingTuesday è possibile cercare Arci Solidarietà e votare l'associazione stessa al fine di poter ottenere quanti più voti possibili, visto che chi ottiene il maggior numero di votazioni riceverà un premio in denaro che poi verrà utilizzato per l'asilo notturno arcobaleno. L'altra invece, sulla medesima piattaforma web, nella sezione crowdfunding, si chiama Cappuccino e Brioche e si tratta di una raccolta fondi al fine di raggiungere l'obiettivo di 1200 euro per continuare a offrire il servizio colazioni agli ospiti dell'asilo notturno. Arci Solidarietà, quindi, non si ferma e dopo il progetto Housing First atto a dare una casa vera e propria alle persone senza dimora e all'apertura della prima ciclofficina solidale La Formichina vuole proseguire nel suo sostegno alle persone bisognose grazie all'aiuto dei volontari che sono parte vitale dell'Associazione Rodigina.